nessun presidente della regione calabria nella storia cinquantennale dell'istituzione ha fatto due legislature consecutive solo aldo ferrara ne ha fatte due ma non consecutive cioè 74 meno 75 76 nessun presidente della regione calabria nella storia cinquantennale dell'istituzione ha fatto due legislature consecutive solo aldo ferrara ne ha fatte due ma non consecutive cioè 74 meno 75 76 meno 80 in calabria non esiste la continuità di governo in tanti ci hanno sperato ma nessuno per vari motivi c'è riuscito quella che si è affermata negli ultimi decenni è l'alternanza tra centrodestra e centrosinistra una instabilità pietrificata la prematura morte di iole santelli unita alla pandemia ha creato una nuova fattispecie dentro la quale si è infilato suo malgrado nino spirlì l'esponente della lega ha pensato di spezzare questo destino di provvisorietà creando le basi per una sua ricandidatura aspirazione legittima anche perché forse ha pensato di meritarla ma a un passo da ottenerla matteo salvini gli ha buttato un secchio di acqua gelata ma non è detto che la storia sia finita sulla carta ci sono altre fish per il cittadino di taurianova cos'è accaduto domenica è accaduto che salvini tra un gelato di pizzo e uno spaghettino di tropea ha detto che gli accordi si rispettano il capitano testuale all'ansa i nomi vengono dopo e l'indicazione spetta comunque a forza italia tornerò nei prossimi mesi in calabria perché questa terra deve essere l'immagine della ripartenza dell'italia nel mondo la squadra i progetti il governatore il vice governatore vengono dopo aggiungendo sono orgoglioso del lavoro che la squadra della lega sta facendo in calabria ma proprio in quanto squadra è giusto ragionare da tale ho proposto una federazione dove si valorizzino le identità e si mettano insieme valori comuni perché il mio avversario non è in casa ma è la sinistra la sinistra delle tasse a reggio calabria come roma come a milano ragioneremo intorno ad un tavolo sono orgoglioso del lavoro svolto da nino spirli e da tutte le nostre donne i nostri uomini in calabria da ottobre partirà una stagione nuova e ovviamente tutti avremmo molto volentieri evitato di tornare alle elezioni però penso che le divisioni che ci sono a sinistra sono un'ulteriore riprova che non c'è voglia né capacità di governare a ogni modo a breve ci sarà la scelta del candidato alla presidenza della regione